85 anni di storia, 85 anni di successi, di copertine, di celebrità sedute sui divanetti vellutati, ma soprattutto di cinema. La Cappanina di Franceschi festeggia il suo 85esimo compleanno. Tagliato il traguardo storico del locale in attività più antico del mondo, resta sempre sulla cresta dell'onda. Un anniversario speciale quest'anno legato al cinema. Set naturale di pellicole cult del grande schermo, dal Calafuria del 1943 ai due Sapore di Mare degli anni Ottanta, fino all'ultimo Sapore di Tè del gennaio scorso. Il mitico locale Forte Marmino, diretto da patron Gerardo Guidi, omaggia i due maestri del cinema italiano, Antonio e Pupi Avati. Sabato sera saranno gli ospiti d'onore del Galà del Cinema d'Autore, che aprirà i festeggiamenti con un red carpet di attori di tutto rispetto. Felici e orgogliosi, si dicono i due fratelli registi, che riceveranno il premio alla carriera. Ci sarà anche un riconoscimento per la sezione Commedia all'italiana Sapore di Mare 30 anni dopo, che andrà a Gerri Calà. Durante la serata un premio sarà consegnato anche al viceministro Riccardo Nencini. Un compleanno da star per la Cappanina, che si regala pure una linea di polo firmata dalla celebre casa di moda La Martina. Una ricorrenza dalle mille emozioni per chi quel locale lo dirige da quasi 40 anni. Si premia come regista d'autore. Regista d'autore vuol dire che secondo me, che amo abbastanza il cinema, hanno seguito la parte più nobile, hanno seguito la parte più sensibile della loro esperienza e sono riusciti a trasmetterla. Ho passato degli anni molto belli, sono 38 anni che sono qua, praticamente ne ho quasi metà che c'è la Cappanina. No, ma sono contento di questa esperienza perché io, lo sai, vengo da tante esperienze di Firenze, di Bologna, di Pisa e così via. Però la Cappanina mi ha trasmesso sempre tanto e io credo di aver dato tanto alla Cappanina. Grazie. 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 Grazie.